Musica Palla il comune delibera contro chi non ha pagato l'ICI e le sanzioni al codice della strada. Buon abitacolo, il sindaco Rinaldi risponde a Vincenzo Petrizzo, non si creano allarmismi ma chiediamo tutela per ambiente e salute. Padula ha presentata la ricerca sul brigantaggio della Nova Civitas. Teggiano ha premiati i bambini delle scuole tegianesi per il concorso Io e il Presepe. Sassano, concerto di Espedito De Marino presso l'Aula Consiliare, protagonista la musica napoletana di Roberto Murolo. Buongiorno, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con le Uno News. In primo piano la cronaca e sotto stretto monitoraggio l'ospedale Luigi Curto di Polla, il 38enne di Sanza aggredito e ferito gravemente da un toro. L'uomo, per fortuna, non sarebbe in pericolo di vita. Un brutto episodio di cronaca ha coinvolto un 38enne di Sanza aggredito da un toro inferocito. Il fatto si è verificato in località al lago nel pomeriggio di ieri e, secondo quanto raccontato dall'uomo, si è trattata di un'aggressione improvvisa avvenuta poco dopo l'apertura dell'ombrello per il sopraggiungere della pioggia. L'animale lo ha incornato alle spalle, poi l'uomo, finito a terra, è stato caricato più volte e infine è stato infilzato in due punti diversi. Il 38enne, nella sfortuna, è stato fortunato in quanto la ferita più grave all'altezza del linguine per soli due centimetri non ha toccato l'arteria femorale che ne avrebbe causato il decesso. Dopo l'impeto iniziale, il toro ha desistito, consentendo quindi al 38enne, stremato e gravemente ferito, di poter allertare i soccorsi. Immediato l'intervento del medico ex sindaco Vittorio Sposito del 118, con il conseguente trasporto all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove sono state saturate le ferite. Ora l'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata, che sarà sciolta tra oggi e domani, molto presumibilmente. Tuttavia il 38enne non dovrebbe essere in pericolo di vita. E ancora cronaca, solo tanto spavento per due donne, una di Padula e l'altra di Montesano sulla Marcellana, che questa mattina sono state protagoniste di un incidente sulla strada statale. Le due vetture sulle quali viaggiavano, forse a causa del manto stradale reso viscito dalla pioggia, sono entrate in contatto. Sul posto l'immediato intervento dei carabinieri, dei vigili urbani, dei sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare le due donne all'ospedale Luigi Curto di Polla, per gli accertamenti del caso. Cambiamo pagina. Chi non ha pagato le multe per violazioni al codice della strada, chi non ha pagato l'Igzi nel 2010, sperava della prescrizione, ha fatto male i calcoli. Il Comune di Polla ha emesso una delibera per il recupero coattivo delle somme non pagate dai cittadini. Con delibera di giunta, il Comune di Polla, guidato dal sindaco Rocco Giuliano, cerca di recuperare crediti nei confronti di chi, nell'anno 2010, non ha pagato le multe per violazioni del codice della strada e per colore che, sempre nel medesimo anno, non hanno provveduto a versare l'Igzi la vecchia imposta comunale sugli immobili. Chi ha sperato nella prescrizione fino ad oggi dovrà fare mea culpa, perché con la delibera dell'amministrazione comunale viene approvato il ruolo esattoriale integrativo relativo alla riscossione delle sanzioni per la violazione al codice della strada, elevate nell'annualità 2010, per un importo complessivo di circa 10.000 euro. Un provvedimento che sarà applicato anche per le multe non pagate negli anni successivi, al 2010. Il compito della riscossione è stato affidato ad Equitalia per quanto riguarda le multe per violazione al codice della strada, mentre la gestione degli avvisi di accertamento, la riscossione coattiva dei tributi non pagati relativamente all'Igzi 2010 è stata affidata alla società Erarium. Ora la politica, domani sera presso il centro polifunzionale di Sila di Sassano alle 18 si terrà un incontro del Partito Democratico per parlare di sanità nel Vallo di Diano. All'incontro promosso dal coordinatore PD del Vallo di Diano, l'avvocato Cartolano, prenderanno parte il segretario provinciale del PD Nicola Landolfi ed Enrico Coscioni, consigliere personale per la sanità del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Stiamo su un altro tema a caldo di queste settimane, la vicenda Antenna a Buonabitacolo. Nei giorni scorsi Vincenzo Petrizzo, consigliere comunale di Padula, nonché referente in zona per le società di telecomunicazione Wind, ha inviato una nota stampa intervenendo in merito alla protesta di località Pennino contro l'installazione dell'antenna Wind. A Petrizzo ora risponde il primo cittadino di Buonabitacolo, Elia Rinaldi, con alcune precisazioni. La battaglia dei cittadini di Buonabitacolo per impedire la realizzazione dell'antenna in località Pennino continua e si arricchisce anche di un ulteriore capitolo. Nei giorni scorsi Vincenzo Petrizzo, in qualità di referente della compagnia telefonica Wind, è intervenuto sulla protesta in atto, dichiarando la disponibilità in passato della compagnia di raggiungere accordi in grado di risolvere la questione, aggiungendo però di aver trovato totale chiusura. Petrizzo, nella sua nota, aveva anche parlato di distorta informazione che creava allarmismi tra i cittadini. A questa nota risponde il sindaco Elia Rinaldi, che interviene in merito alla vicenda con alcune precisazioni, sottolineando la volontà da parte del primo cittadino di continuare ad avere rapporti istituzionali solo con le società telefoniche. L'unico tentativo di dialogo con Petrizzo, spiega Rinaldi, risale al 15 novembre scorso e in quell'occasione ci furono prospettate due ipotesi economicamente e tecnicamente non sostenibili, altrimenti non avremmo perso tempo ad accettare una soluzione in grado di mettere fine a questo calvario. I cittadini, spiega poi in merito alla denuncia di creare allarmismi, non sono in alcun modo contrari all'innovazione tecnologica, purché sia rispettosa dell'ambiente e della salute. Partendo da questa volontà manifestata dai buonabitacolesi, ho chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico, al Governatore della Regione Campania, De Luca, e all'Assessore regionale all'innovazione e fascione, di escludere il buonabitacolo dalla lista dei comuni della Campania da coprire attraverso le antenne telefoniche e di inserirlo tra quelli da coprire mediante la connettività in fibra ottica e via cavo. Nella nota il primo cittadino è intervenuto anche sulla polemica sollevata da Petrizzo nei confronti dei deputati del PD che nei giorni scorsi hanno fatto visita al Presidio. Forse Petrizzo dimentica che nel 2002 fu Gasparri a cancellare le competenze territoriali sulle infrastrutture di telecomunicazione. Infine, il sindaco di Buonabitacolo ricorda a Petrizzo che la sua amministrazione comunale si è insediata nel 2014, a vicenda già ampiamente avviata. Da quando siamo stati eletti abbiamo affrontato la situazione soltanto da un punto di vista legale e istituzionale, senza fare proclami e pubblicità, anche perché i veri protagonisti di questa circostanza sono soltanto i tantissimi cittadini che nonostante le rigide temperature di questi giorni e da circa due mesi stanno presidiando in località Pennino per impedire l'installazione delle antenne telefoniche. Soltanto persone veramente legate ad un sentimento profondo verso il proprio paese possono resistere a queste condizioni. Pertanto eviterei di preoccuparmi troppo delle passerelle politiche per pensare di più a coloro che vivono con preoccupazione la vicenda, tanto da stare notte e giorno in una capanna. Ma Rinaldi non esclude che Petrizio possa comprendere le difficoltà dei cittadini di buon abitacolo. Visto il ruolo istituzionale e politico ricoperto nel vicino comune di Padula, il consigliere comunale potrebbe ripensarci, anche perché il nostro ruolo è principalmente quello di tutelare il territorio e i cittadini. Andiamo a Padula dove martedì sera è stato presentato il lavoro di ricostruzione storica e documentale della storia del brigantaggio a Padula e del Vallo di Diano nel periodo post-unitario. Presso l'aula consigliare si è svolto infatti il convegno dal titolo Il brigantaggio a Padula e nel Vallo di Diano 1861-876. Per noi c'era Pietro Cusati che ha raccolto le voci dei protagonisti. Questa sera presentiamo le ricerche sul brigantaggio meridionale effettuate dalla Nuova Civitas Società Cooperativa. Queste ricerche sono state effettuate un po' in tutta Italia, quindi a partire dall'archivio del comune di Padula fino a giungere poi a Salerno, Napoli, Roma e Milano da un gruppo di lavoro per lo più costituito dai soci della Nuova Civitas che con grande professionalità ed impegno hanno trattato diversi aspetti del brigantaggio e delle ricerche. Dapprima attraverso la raccolta di documenti, carte, foto poi attraverso la trascrizione dei documenti stessi attraverso la redazione del tesso che racconta la storia. I contenuti della ricerca che viene questa sera presentata integralmente verranno pubblicati in un volume per il quale abbiamo l'ambizione di procedere ma una selezione dello stesso sarà poi visibile in una sezione specifica che integrerà il museo civico multimediale già esistente aperto al pubblico di Padula che per lo più ha contenuti riguardanti il risorgimento quindi l'aggiunta della sezione sul brigantaggio non fa altro che arricchire quanto il visitatore potrà ammirare. La ricerca è stata condotta dai soci prevalentemente dei soci della società cooperativa Nuova Civitas ed è stata divisa in più fasi. Il primo step ha riguardato soprattutto la ricerca fisica del materiale archivistico seguito poi da un'analisi e dalle trascrizioni del materiale di nostro interesse che copre un lasso di tempo che va dal 1861 al 1876 e la terza fase quella conclusiva dove si è proceduto a redigere dei testi delle micro storie che si vanno ad inserire in quella che è la macro storia del brigantaggio post-unitario nell'Italia meridionale. Ovviamente si è partito da ciò che è più vicino a noi ovvero dagli archivi locali in primis l'archivio storico di Padula dove sono stati recuperati diversi documenti e che sono dei tasselli che vanno a ricostruire quello che è lo scenario sociale e politico dell'epoca di riferimento. Successivamente si è passato all'archivio provinciale di Potenza e di Salerno in particolare l'archivio storico di Salerno ci ha fornito circa l'80% del materiale archivistico che poi abbiamo utilizzato per edigere le varie storie. Tra i vari documenti sono stati seminati circa 20 buste ogni buste contiene circa 15 fascicoli con documenti di varia natura che sono stati attentamente esaminati e trascritti. A questo la ricerca ovviamente ha seguito due binari paralleli da una parte i documenti d'archivio e dall'altra parte il materiale fotografico che è stato recuperato invece presso fondi privati a Padula e Sala Consilina. Qui la ricerca è stata un po' più difficoltosa perché ovviamente molti archivi privati sono andati perduti o sono danneggiati o lacunosi. Quindi come dicevo con l'intreccio delle fondi quindi con documenti d'archivio e con il materiale fotografico si è potuto ricostruire varie diverse micro storie e ovviamente spesso sono ricche di fascino quel fascino che ci viene tramandato anche dai nostri compaesani spesso i vecchietti ricordano degli episodi ricordi che possono trasformarsi in fatti storici soltanto se corredati da una ricca documentazione archivistica. Quello che abbiamo fatto è proprio questo ossia associare i ricordi dei nostri compaesani degli eventi del periodo del brigantaggio alla ricerca archivistica. Ancora eventi ieri sera presso la chiesa di Santa Maria Maggiore a Teggiano si è tenuta la premiazione del concorso rivolto alle scuole dal titolo Io e il Presepe diverse le classi e gli studenti premiati per i lavori di foto video arte e poesia realizzati e presentati alla folta platea di pubblico. di pubblico. Qui viene il tuo canto neve mi scende dietro nel mio cuore e la notte santa il cuore su tant'amor è natale e amore che Maria Maggiore viene il tuo canto prendo un canto che consola il cuore e mi dice spera anche tu è natale Non soffrire più che con invidiabile impegno hanno attraverso le loro opere in presentazione riportato alla luce il vero valore del presepe come principale rappresentazione della natività e del significato dell'evento natalizio. Il concorso rientrande nell'ambito della manifestazione natalizia intorno al presepe ha visto la partecipazione e la collaborazione anche della Banca Montepruno e dell'Associazione Montepruno Giovani. Tantissime le persone che ieri sera hanno raggiunto Teggiano per vedere i lavori realizzati nelle settimane prenatalizie dagli alunni delle scuole del territorio con i quali il dirigente scolastico Salvatore Gallo ha voluto congratularsi per la diligenza, l'attenzione e l'impegno mostrati nella partecipazione al concorso. A premiare i vincitori, oltre all'amministrazione comunale presente in primis con il sindaco Rocco Cimino, anche Don Giuseppe Puppo che ha elogiato i lavori ritenuti davvero interessanti e belli dei piccoli studenti, Angelo D'Alto responsabile della comunicazione dell'evento intorno al presepe e Giuseppe Nese, presidente dell'Associazione Montepruno Giovani e Montepruno Baby. Le categorie premiate sono disegno, poesia e videoclip con le diverse opere mostrate tutte al pubblico e in esposizione per poterle ammirare da vicino. E ascoltiamo ora le interviste realizzate ieri sera a Teggiano. È un concorso voluto dall'amministrazione comunale per festeggiare il Natale e diffondere l'idea dell'attività e del lavoro artistico e culturale nelle scuole. Ha coinvolto quasi 600 alunni di tutti i plessi di Teggiano compreso l'Istituto delle Maestre Pie Filippini di Prato Perillo e tutti gli altri plessi dell'Istituto Comprensivo di Teggiano. Hanno partecipato in tantissimi, sono 14 i premiati che questa sera riceveranno il premio. È un evento che è stato svolto in collaborazione con l'Associazione Montepruno Giovani e l'Associazione Montepruno Baby. Nulla, si chiude questi 30 giorni di festa qui a Teggiano. Fino al primo gennaio abbiamo goduto di un ottimo clima. Poi purtroppo successivamente, come è giusto che sia, anche nel periodo invernale, è venuto un po' di freddo e anche la pioggia. Quindi abbiamo sospeso alcuni eventi, tra cui quello di stasera di Made in Sud, che verrà rinviato e verrà riproposto poi nei prossimi giorni. Vediamo un po' quando è possibile collocarlo. C'è un'idea tra il 15 e il 16 di gennaio. Quando abbiamo una notizia più certa ve ne comunicheremo. Diciamo che questa iniziativa rispecchia un po' il nostro spirito di fare banca tra i più piccoli. L'Associazione Montepruno Giovani e poi successivamente la Montepruno Baby si rivolge proprio alle fasce giovanili della nostra popolazione. Questa iniziativa rientra in un percorso di collaborazione che ormai dura da tempo col comune di Teggiano, che si caratterizza per la continuità e direi anche per l'intensità. Le idee che nascono dalla nostra partnership sono tantissime e quella di stasera, come dicevi giustamente, che ha al proprio centro il presepe ha un valore importante. Siamo convinti come Associazione Montepruno Giovani, dietro gli indirizzi che ci vengono dalla banca Montepruno, dal direttore generale Michele Albanese, che il nostro territorio, la speranza di uscire da questa situazione di stallo del nostro territorio, non possa non passare dall'educazione delle fasce più giovani della nostra popolazione. Quest'iniziativa rientra pieno tra questo. Abitiamo in un territorio dell'Italia che non si caratterizza e non spicca sicuramente per gli insediamenti industriali né tantomeno per un circuito economico così fiorente. Le nostre risorse probabilmente più importanti sono proprio quelle della tradizione, della storia. e lasciare che appunto i ragazzi nel nostro territorio crescano ben informati e con valori importanti che facciano della tradizione appunto e di quello che ci caratterizza il punto di forza penso sia indispensabile. I ragazzi spesso oggi, io sono un ragazzo, sono Presidente dell'Associazione Montepruno Giovani, vedo i ragazzi bersagliati da messaggi fuorvianti, da messaggi che li allontanano dalle cose importanti della vita. Penso che il presepe, così come la religione, siano le cose importanti che riescono a trascinare i ragazzi verso la positività che deve caratterizzare il loro quotidiano. Restiamo a Teggiano, ma andiamo a San Marco, presso la cetra di San Marco, dove ieri sera sono stati premiati i presepi più belli realizzati per questo Natale 2015. La prevenzione è avvenuta dopo la funzione religiosa dedicata all'adorazione di Bambin Gesù per l'Epifania. Ieri sera a San Marco di Teggiano sono stati premiati i presepi realizzati nell'ambito della seconda edizione del concorso promosso dalla parrocchia di San Marco e dal Circo Roacli Camminare Insieme con la sapiente regia del professor Germano Torresi. Diversi partecipanti al concorso Te Piaccio Presepe che hanno presentato le loro opere. Dopo il momento dell'adorazione del Bambin Gesù, ufficiata da Don Cono di Gruccio, vista anche la concomitanza con l'evento dell'Epifania in cui si ricorda la visita dei Re Maggi a Gesù Bambino, sono stati presentati i presepi partecipanti al concorso e consegnati a tutti i riconoscimenti e omaggi. I primi tre classificati, oltre ai riconoscimenti e agli attestati di partecipazione, anche premi offerti dagli sponsor, quali il ristorante La Romantica e supermercati Morena di Teggiano. Tutti molto belli i presepi, sinceramente non vorrei dire qual è stato il più bello, poi comunque si sono sommati dei punti e si è arrivato al vincitore. Però queste famiglie veramente hanno lavorato col cuore, c'era tutto un senso di vera famiglia, bello, veramente bello. Uno in particolare è una signora che ha costruito un presepe con biscotti fatto di pasta frolla, dove dietro c'era un bel lavoro. Forse era l'unico che si distingueva dagli altri, gli altri un po' più o meno simili, anche se ognuno ha messo del proprio, insomma, e quindi io sono stata molto onorata di poter essere uno dei giudici, anche se era un compito molto ingrato, perché veramente erano tutti molto belli. Tutti noi, siamo tutti delle famiglie, ognuno di noi partecipa a questo presepe, che ci diamo una mano, e formando poi un'unica famiglia in quell'occasione. Forse è questo che ci ha uniti di più e quindi ci fa andare avanti in questo senso. Abbiamo verificato che dopo quel primo incontro, che era un po' di introduzione, quella che era la tematica del concorso, alcuni dei partecipanti, quindi nel nostro itinerario di visita per la valutazione, hanno raccolto le indicazioni che sono, diciamo, in qualche modo state indicate in quell'incontro. Quindi credo che è un momento di crescita, di formazione, di interesse intorno a questa tematica e con degli incontri mirati a far crescere un po', anche da un punto di vista tecnico e esecutivo, sul tema dell'aneditanza, ma possa essere, diciamo, un percorso positivo. E visto che noi come associazione siamo quest'anno alla ventunesima edizione, quindi speriamo che possano nascere delle iniziative e che abbiano, diciamo, una loro durata, anche perché se, diciamo, c'è questa continuità nel tempo, c'è la possibilità anche di crescere, di migliorarsi. Ma i ragazzi vanno sicuramente avvicinati, insomma, oltre, diciamo, sul tema e quindi, diciamo, affrontando in modo, diciamo, coerente quella che è la rappresentazione presepiale, e poi c'è tutta una fase che quella potrebbe essere l'approccio con la tecnica, con le tematiche, quindi con le varie tipologie di rappresentazione, insomma, credo che facendo, diciamo, un approccio programmatico, tecnico-operativo, insomma, si possa, diciamo, incuriosire, avvicinare i ragazzi che potrebbero far crescere sia tecnicamente che da un punto di vista anche del messaggio il tema del presepio. Ed ora una pausa per la pubblicità a tra poco. Seconda parte dell'edizione pomeridiana delle Uno News, riapriamo con gli eventi. Martedì sera, presso il centro Don Bosco a Teggiano, si è tenuta la premiazione, la cerimonia di premiazione, della seconda edizione del premio Diano Sport, che punta a consegnare un riconoscimento agli atleti del territorio che si sono particolarmente distinti in ambito sportivo, a livello internazionale, nazionale e regionale. L'evento è stato realizzato grazie al contributo della Banca Montepruno. Il premio Diano Sport svoltosi a Teggiano lo scorso mercoledì si è dimostrato anche in questa seconda edizione l'occasione per il Vallo di Diano di scoprire le numerevoli attività sportive che vengono realizzate, peraltro anche con ottimi risultati a livello nazionale e internazionale. E per riflettere sull'importanza di dare spazio e opportunità ai giovani e non solo, che anche tra mille difficoltà riescono comunque a raggiungere importanti obiettivi non sempre riconosciuti tra gli stessi concittadini. Nato lo scorso anno su iniziativa di AD Event e Onda News con il sostegno e la partnership della Banca Montepruno, il patrocinio del comune di Teggiano, l'evento vuole anche mettere in evidenza l'importanza dello sport dal punto di vista educativo e formativo, motivo per il quale la Banca Montepruno è spesso in prima linea per sostenere le iniziative di carattere sportivo su tutto il territorio di competenza e per riconoscere i giusti meriti agli sportivi del territorio, come ha avuto modo di sottolineare il responsabile area di lezione dell'Istituto di Credito, Cono Federico. Il messaggio principale di questa manifestazione è far vedere che nel Vallo ci sono tante persone che praticano sport che poi ci si impegnano e vincono anche di trofei a livello nazionale ma nessuno lo sa. È giusto invece dare a loro un momento di gloria oltre che sportiva anche di riconoscimento del territorio e poi ho notato che variano da tutte le età, partono dai piccolissimi fino ad arrivare a gente anche adulta che quindi si muove, fa sport per stare bene fisicamente e moralmente. Un evento del genere credo che abbia questo proprio come elemento più importante. L'elemento principale è soprattutto la massima condivisione sul territorio. Più un evento coinvolge persone riguardo a un numero più elevato di persone che vivono nelle zone dove siamo presenti e più li sosteniamo. È ovvio che ci sono tante iniziative meritevoli anche individuali che ricevono il nostro sostegno ma sicuramente quelle che coinvolgono un numero ampio di persone sono quelle su cui andiamo più facilmente. Quanti sono oggi, facciamo un bilancio di quanti sono le attività sportive in cui voi come Banca Montebruno siete impegnati? Oddio, ma credo sicuramente più di 20 ad ampio raggio in varie zone che coinvolgono vari sport forse avendo un numero riduttivo perché poi ci sono anche le associazioni non organizzate che praticano sport e poi siamo impegnati anche direttamente come Banca con una squadra di calcio a 5 che ci ha dato belle soddisfazioni l'anno scorso e che speriamo quest'anno repliche. 12 le categorie sportive premiate che hanno visto i nostri atleti raggiungere grandi traguardi. Martedì sera presso l'oratorio Don Bosco alla presenza di istituzioni civili e religiosi quali il Vescovo Monsignor Antonio De Luca il Presidente del Parco Nazionale Cilento Vallodidiane Alburni Tommaso Pellegrino il Presidente della Comunità Montana Vallodidiano Raffaele Accetta il Sindaco di Teggiano Rocco Cimino hanno premiato Antonio Marmo medaglia di bronzo e mondiali di Francia per lo sport equestre Davide Stabile vice campione europeo juniores nella lotta mista Pancrazio Società Abica Salbuono vincitori del campionato regionale Lucana di Bocce Vito Antonicelli vice campione mondiale Kids di Muay Thai per il calcio ASD Certosa di Padula vincitrice del campionato di seconda categoria promossa in prima categoria Loredana Lamaida e Vito Moscarella campioni italiani di atletica leggera categoria Asi Luigi Liguori due volte campione italiano di kickboxing la Magurno Santa Impresa Agricola più volte campione in diverse gare nazionali di sport equestre Associazione ciclo Team Tanagro per il ciclismo AS Caggianese di calcio a 5 Sergio Ignoto convocato nella nazionale italiana di sitting volley e ancora Associazione ginnastica Kodokan vincitrice di 5 medaglie negli ultimi campionati mondiali di ginnastica ritmica inoltre premi e speciali riconoscimenti sono stati assegnati anche a chi sostiene attivamente lo sport e gli atleti del territorio come l'imprenditore Antonio Biscotti di Sant'Arsenio titolare del centro Cassiopea Conad e per la comunicazione e l'informazione Radio Alfa Giorno dell'epifania molto importante a San Pietro Altanagro infatti si sono svolti due appuntamenti prima presso la chiesa di San Pietro Apostolo nella sedicesima edizione della rassegna Cori Polifonici e nel corso di questo appuntamento si è tenuta anche l'undicesima edizione di Con uno sguardo al futuro per festeggiare insieme alla comunità i bambini nati nel 2015 a San Pietro Altanagro ospite d'onore il vescovo della diocesi di Degiano Policastro Monsignor Antonio De Duca che ascoltiamo ai nostri microfoni insieme al sindaco di San Pietro Altanagro domenico 40 all'assessore Pagliarulo e al presidente del prologo di San Pietro Michele Giallorenzo partecipano tutti i cori più numerosi del Vallo di Diano in questo che è un appuntamento culturale e spirituale che ci riporta le radici del Natale cristiano e inoltre in questa giornata vengono presentati alla comunità tutti i bambini che sono nati nell'anno e che quest'anno sono abbastanza numerosi è una consolidata tradizione ormai qui a San Pietro Altanagro in occasione dell'epifania non solo godere dell'esibizione dei cori che sono veramente di grande eccellenza ma anche solennizzati intorno alla nascita dei bambini della comunità che sono quest'anno ben 28 e quindi segnano una sorta di record per il nostro piccolo paese e siamo contenti che abbiamo raggiunto questo ragguardo perché siamo molto orgogliosi perché diamo questo piccolo pensiero che facciamo conoscere la prologa che è la prologa di tutti quindi cerchiamo di far stare tutti insieme come una famiglia questa sinergia che si è creata anche con la parrocchia è una manifestazione che coinvolge un pochino tutti e coinvolge soprattutto questi bambini che accogliamo questa sera in questa sera nella nostra comunità di San Pietro Altanagro noi come amministrazione comunale patrociniamo questa manifestazione ringraziamo la prologa per portarla così calorosamente avanti impegnandosi tantissimo quest'anno siamo gioiosi particolarmente perché abbiamo nella nostra comunità accogliamo ben 28 bambini 15 maschi e 13 femmine che appunto ci faranno sicuramente saranno per noi diciamo vanto e orgoglio per questa comunità ancora eventi martedì scorso presso l'aula consigliare del comune di Sassano si è stato il concerto del maestro Espedito De Marino il grande musicista napoletano che per ben 13 anni ha collaborato con Roberto Murolo si è rivelato di grande interesse anche dal punto di vista culturale il concerto di Espedito De Marino tenutosi mercoledì scorso a Sassano presso l'aula consigliare del comune una serata rientrande nell'ambito degli appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale per le festività natalizie e cofinanziato dalla provincia di Salerno nel corso del quale il grande artista napoletano ha presentato al pubblico un ampio repertorio di musica napoletana restituendo lustro e importanza anche alla cultura e alla tradizione che rappresenta come ha avuto modo di sottolineare lo stesso artista è un escursus nella grande canzone napoletana racconterò un po' la mia esperienza con il grande Roberto Murolo per ben 16 anni dall'87 al 2003 poi ovviamente essendo la vigilia della Befana non mancherò anche un accenno alle pastorali di Natale che ricorre la ventisesima edizione quest'anno io e Murolo nell'89 creammo questo evento perché stavo a casa sua come tante altre sere e sentivo il suo disco Natale napoletano di lì ci venne l'idea di fare le pastorali poi come sapete il 14 marzo del 2003 ha reso l'animo a Dio e io ho continuato poi nel solco di quella tradizione a prendere parte al concerto per salutare il maestro De Marino che per 13 anni ha affiancato il grande Roberto Murolo anche il vice sindaco di Sassano Antonio D'Amato gli assessori Maria Russo e Gaetana Esposito e Don Bernardino a Badessa certo che rientra appunto nei nostri schemi ed è appunto per questo che questa sera qui con noi al concerto abbiamo voluto il ministro Espedito De Marino musicista di fama nazionale non siamo qui naturalmente a decantare le sorote anche perché è un curriculum che parla da solo ed è un curriculum di tutto rispetto più che come dire parliamo di quella musica ma di quella musica a 360 gradi quella musica che alla fine è cultura quella musica che alla fine è identità è identità appunto che si incarna nei nostri territori noi dobbiamo sempre trasmettere il messaggio di appartenenza dei nostri territori le nostre origini la nostra cultura e il nostro modo di fare società credo che il ministro Espedito De Marino appunto questa sera che avremo il piacere di ascoltare ci trasmetterà di questi valori e noi appunto per questo che nel nostro programma di Natale che ha avuto tanti eventi e che poi stiamo portando a termine vogliamo appunto concluderlo un attimo con lui nel messaggio di quell'appartenenza del nostro territorio del quale noi ne siamo fieri ne siamo orgogliosi e vogliamo anche raccontarlo all'esterno questa opportunità ci è stata data dalla provincia di Salerno e ne abbiamo subito approfittato anche perché il maestro è molto famoso ha anche cantato con Roberto Murolo e poi bisogna dire che ascoltare musica fa sempre bene rilassa la mente e quindi ascoltiamolo noi ci auguriamo che nel futuro le cose vadano sempre meglio l'impegno da parte nostra c'è sempre stato e continuerà ad esserci per cui dobbiamo dire solo in bocca al lupo a tutti noi e perché l'impegno è tanto c'è tanto lavoro dietro e ci mettiamo veramente tutta l'anima per organizzare però vedendo poi determinati risultati c'è un po' di scoraggiamento da parte nostra e con questo servizio noi chiudiamo l'edizione pomeridiana delle UNO News io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata Grazie a tutti